Applicando integralmente il nostro progetto, nel 2018 noi ritroveremo un tasso di crescita nell'ordine del 3%. In 5 anni il PIL aumenterebbe di 156 miliardi di euro al netto dell'inflazione, il che vuol dire più 2.167 euro per ogni abitante. L'occupazione crescerebbe di 1,8 milioni di unità e il tasso di occupazione salerebbe al 60,6% dal 56,4% attuale, quindi ci sarebbe una crescita di 4 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione scenderebbe all'8,4% dal 12,3-12,4% che è quello atteso per quest'anno. Quindi un cambiamento radicale anche in questa direzione.